amici sportivi siete pronti siete pronti a una puntata in cui sentirete tutto e il contrario di tutto sentirete parlare bene del palermo e male del palermo bene di corini e male di corini male del calcio della serie b e male di fabrizio vitale il nostro capobanda che saluto ciao fabrizio buon pomeriggio ciao guido il nostro capobanda che sa addirittura leggere e scrivere caro salvatore mentre noi siamo in coppia da sempre perché uno legge e l'altro scrive ciao salvatore geraci ciao a giuseppe leone e salutiamo ovviamente poi repubblica gazzetta dello sport i vostri giornali salutiamo stadio news salutiamo blog sicilia e entriamo subito nel dunque perché siamo un po anche in imbarazzo nel presentare una puntata del genere che non si capisce bene se siamo incavolati neri o se siamo ancora speranzosi perché dopo una partita come quella col benevento decisamente brutta sotto tanti punti di vista che è finita con un pareggio siamo ancora più vicini alla zona playoff caro paradosso di questo campionato che perché il pisa ha perso siamo a due punti di distanza a quattro partite al termine tecnicamente c'è da sperare però abbiamo fallito tutti gli esami che potevamo fallire c'è la speranza da un lato e i tifosi lo testimoniano poi vi dirò anche perché ma dall'altro c'è un corini che è sempre più vituperato sui social anche troppo non tollero gli insulti alla professionalità e alla dignità le critiche sì ma gli insulti no e in questo contrasto dobbiamo cercare di capire qualcosa per il presente e per il futuro chiediamo come sempre lumi a salvatore geraci che ci illuminerà con la sua riflessione da vecchio saggio salvatore sei rimasto più deluso o più sorpreso da questo evolversi della classifica di serie b un poco confuso direi voglio essere comunque breve perché l'analisi è lunga e laboriosa preferisco gettare una pietra l'hai detto tu poco fa permesso che la squadra ha fornito una delle peggiori prestazioni io io ci credo ma ci credo veramente perché è stato un turno favorevole regina pisa e ternana hanno perso il modena pareggiato significa che il palermo ha guadagnato un punto e ora mancano solo quattro giornale con un calendario che in teoria è ancora abbordabile certo tu ripeto siamo qui nella teoria ma la b riserva tantissime sorprese il palermo prima o poi una partita penso che dovrà vincerla questo tu sei stato però uno dei primi tutto subito questo mi dice il cuore no poi riguarda la partita col benevento e ti vengono gli incubi perché stavolta non ha funzionato proprio nulla se si accettano pigliacelli brunori e sala e la buona volontà dei subentrati e sono d'accordo con te ma tu sei stato fra i primi e fra i più temerari nello sbilanciarti tre mesi fa sulla possibilità dei playoff te lo dico non per infacciarti un errore tra l'altro ancora siamo in corsa ma per chiederti se ti senti tradito perché secondo me la partita col benevento al di là di ogni discorso di equilibrio il benevento era disparato faceva tutto per pareggiare tutto quello che si vuole però mi pare che ci sia stato un tradimento cioè non portare a casa questa partita e non come se non ci fosse anima ma io l'ho già detto quando giuseppe parlava per esempio di delusione io ho detto che era un vero e proprio tradimento per me perché quel palermo mi dava l'impressione di avere un anima e di avere un gioco tutto il contrario di oggi giuseppe leone vorrei sentire il tuo parere guido c'è chiaramente delusione ora tradimento non lo so se il caso di usare questa questa espressione è un palermo che sembra piano piano giornata dopo giornata avere avere mollato fondamentalmente questo cioè una squadra che comunque è consapevole di avere raggiunto quello che è il di fatto l'obiettivo l'obiettivo stagionale della salvezza e del consolidamento della categoria anche senza troppi patemi e questa è la classifica a parlare però una squadra che è stata presa mi viene da dire inspiegabilmente anche dall'ansia dalla dalla pressione di dover avere un un risultato che invece era un obiettivo quello dei playoff chiaramente che che doveva essere inseguito con tutt'altro atteggiamento rispetto a quello che è stato visto anche tu anche tu poni l'attenzione sull'atteggiamento fabrizio con te vorrei entrare proprio sulla specifico del titolo cioè perché fra i paradossi di questa serie b che io non mi ricordo mai così equilibrata così non saprei dire neanche se è mediocre o livellata verso l'alto anche perché importa poco però ecco siamo a due punti dei playoff quindi è doveroso anche crederci non puoi lasciare comunque intentate le chance però sembra quasi che non ci creda nessuno non ci credono buona parte dei tifosi ma sembra almeno giudicato dagli spettacoli che non ci creda neanche la squadra e probabilmente non più di tanto neanche i corini così mi sembrerebbe di capire ma guarda guido è da un mese che ci ritroviamo ogni lunedì a commentare sempre la stessa storia una squadra che è entrata in un loop di risultati prima nonostante le prestazioni alcune partite fossero state anche convincenti perché io ricordo Frosinone ricordo Pisa ma anche la stessa partita di Venezia se non fosse stata condizionata da due errori beceri penso che avrebbe portato a un altro risultato però poi ci troviamo anche a andare a vedere a rimarcare le prestazioni soprattutto in casa che non sono all'altezza della situazione di una squadra che ambisce a tentare di verificarsi su un obiettivo un po' più alto e il fatto che queste prestazioni lasciano a desiderare in casa secondo me è la spiegazione di quello che ormai stiamo discutendo da un po' di tempo cioè a mio avviso questa squadra è entrata in questo loop dal momento in cui è stata alzata la sticella mentalmente e anche in parte fisicamente non riesce a fare il salto si sente responsabile di dover tentare questo salto e nelle dinamiche di campo non riesce a farlo io ho rivisto in parte ma già me ne ero accorto e c'era con me anche Giuseppe perché chiaramente lavorando assieme stiamo assieme in tribuna stampa ci sono state tante occasioni in cui si sono dipanate delle verticalizzazioni delle trame dei movimenti senza palla non sono mai stati assecondati una volta perché Mateio non ha avuto le palle di verticalizzare una volta perché Valente non ha avuto le palle di darla in un certo modo un'altra volta perché è mancata la personalità in un altro movimento cioè il Palermo ha giocato male ma ha giocato con paura cioè il giocare male è derivato secondo me da un'ansia di dover vincere per raggiungere questi benedetti playoff e sta diventando un boomerang clamoroso allora io però ti fermo intanto vorrei pregare tutti coloro che ci stanno guardando sono già tanti e che mandano messaggi vi ricordo anche la brevità dei messaggi perché più brevi sono i messaggi più risposte potremo darvi vi vorrei anche invitare a condividere questa diretta che già siete intanti a vedere perché così la vediamo in più persone il che può servire anche da arricchire il dibattito dopodiché più persone vedono più guadagniamo noi quindi fatemi questa cortesia di andare a cliccare sulla condivisione della diretta però Salvatore se per caso Fabrizio Vitale ha ragione e secondo me ha fatto un discorso che in qualche modo è condivisibile è anche vero allora che ci stiamo ponendo un falso problema cioè arrivare ai playoff non è che è il traguardo della vita perché se tu poi vai ai playoff giochi i playoff per dire a Cagliari partita secca e devi andarla a vincere ti trovi davanti a responsabilità che non hai più che non sei più in grado di sopportare quindi è soltanto un allungamento, un'etichetta ho raggiunto i playoff però poi insomma non ho cosa andarci a fare il falso problema non ce lo stiamo ponendo noi carissimo Guido io all'inizio di stagione ho detto che il Palermo era partito per salvarsi diciamo che era questo lo slogan ma che io non ci credevo perché era impossibile crederci probabilmente è stato detto nel momento del trapasso è stato detto nel momento in cui ancora non si sapeva se restava o non restava Baldini la squadra doveva essere trasformata o meno però paradossalmente oltre ai giocatori che non hanno creduto nel fatto di dover alzare l'asticella c'è un errore di base che è quello di una società come il City Group che arriva a Palermo apre orizzonti infiniti e dice in quest'anno noi ci salviamo poi vediamo e ovviamente i progetti sono più ambiziosi no non è possibile in una città come Palermo tu non puoi andare a dire noi ci salviamo e basta perché poi se le cose vanno bene e poi subito dopo tornano brutte si fa fatica a pensare che non sia stato un errore di calcolo ma che nel mondo del calcio può esistere una situazione del genere e allora tutti sotto processo invece bisognava dire cercheremo di fare il viaggio più bello possibile fermo restando che salvandoci siamo a posto ma bisognava dare una speranza adesso i calciatori si sentono anche appagati loro hanno fatto quello che la società che deve sì anche perché Giuseppe mi pare di poter dire anche che cioè in tutto questo bailam è vero che la società ha detto questo è un anno di consolidamento dobbiamo cominciare a salvarci e ci si sta riuscendo anche però l'impressione è che non tutte come si dice tutte le sambelle riescono col buco perché secondo me c'è un problema anche in prospettiva futura perché un conto è il consolidamento io sto costruendo una squadra e so che otto undicesimi vanno bene manca l'attaccante X o il difensore Y per darti ulteriore qualità e personalità qua mi sembra che invece sia un lavoro che a occhi e croce se è un Palermo che già ora sprofonda davanti alle responsabilità possa creare anche qualche perplessità in futuro ma infatti è quello di cui abbiamo parlato anche anche la settimana scorsa questo finale di campionato ci sta dicendo che questo è un Palermo che ha bisogno non dico di essere rifondato ma comunque ampiamente rivisto in tanti suoi elementi che chiaramente per fare il salto di qualità che l'anno prossimo lo intendo quantomeno nel lottare per le posizioni di vertice per una posizione di alta classifica se non per forza nella promozione diretta è un Palermo che va assolutamente rivisto in tutti i suoi reparti perché non mi sembra che oggi possiamo dire agiamo in difesa, agiamo in attacco perché a centrocampo siamo messi bene con quelli che siamo va rivisto in tutti i suoi reparti e non mi pare che saranno ristrutturazioni diciamo marginali o banali ma piuttosto grosse poi ne parleremo magari anche nelle prossime puntate tanto abbiamo tutta un'estate da tirarci dietro e Fabrizio secondo te intanto già hai dato un'occhiata a tutti i commenti Sì, con l'Uniti già abbastanza infuocata il dibattito è accesissimo Il colpevole è quasi sempre Corini E soltanto lui C'è anche qualcuno che sostiene che anche con un altro allenatore questo tipo di squadra non avrebbe potuto fare meglio però adesso li andiamo a smocciolare tranquillamente con le solite coordinate per favore messaggi brevi provenienti da profili con un nome o cognome possibilmente perché altrimenti non li mandiamo dimmi No, senza insulti soprattutto ma andiamo vediamo Corini quale responsabilità perché ne ha pure lui chiaramente in una storia che non funziona bene ce le ha anche lui Non c'è dubbio Buonasera Uvido Cusimano campionato mediocre e equilibrato bastavano due vittorie nelle ultime undici per essere a ridosso della quarta ma non siamo in grado Io a questo commento qua scusami Fabrizio che comunque è condivisibile perché è vero due vittorie in più anche una soltanto anche vincere col benevento e c'è lì dentro però rispondo carissimo signore ma quanti tifosi in altre tredici quattordici città italiane di serie B staranno facendo lo stesso discorso tranne quelli di Frosinone tranne quelli di Genova o quelli di Benevento e Ferrara E mi pare che sia un problema Perché il campionato sta dicendo che stanno rallentando tutti cioè stanno andando quelle che si devono salvare là sopra stanno rallentando Come no? Se tu guardi la classifica delle ultime dieci giornate il Palermo chiaramente non eccelle ma non è neanche che ha perso tutto questo Il Pisa non vince credo da tre giornate il Cagliari ha perso La Ternana No però dico ecco quando c'è un equilibrio del genere dove nell'arco di sei punti veramente c'è mezzo mondo saranno in tante le vere rimpianti anche il Pisa dirà se ieri non facciamo il fallo da rigore all'ottantottesimo pareggiamo sta partita e siamo dentro i playoff Allora c'è invece chi vede il bicchiere mezzo pieno Tony Grassia il Palermo andrà ai playoff punto basta poi Angelo Ferrazzo che dice nessuno che in conferenza abbia chiesto a Corini il motivo della sostituzione di Verre non è vero è stato chiesto lui ha detto che in quel momento in quel momento ha visto che la squadra non riusciva a supportare Verre più due esterni offensivi e due attaccanti anche qui poi possiamo aprire un dibattito su quanto e ha risposto anche sulla mancanza di Verre nella partita precedente dicendo che non era in condizioni perché veniva dall'influenza ma sul centrocampo poi sul flop del centrocampo c'è un titoletto a parte ne parleremo più in là Leonardo Ferdico Rosa Nero perché Corini dice che la squadra sente la pressione dei tifosi ma come i tifosi incomiabili ma io non penso che Corini volesse dire che i tifosi sono il guaio del Palermo Corini voglia sottolineare che per giocare a Palermo con una grande tifoseria come quella Rosa Nero che ha anche delle richieste e delle esigenze bisogna avere le spalle larghe credo che il messaggio che volesse veicolare Corini fosse questo qua devo dire la verità in un sabato prefestivo perché diciamo prefestivo lungo nel senso che c'era anche il ponte 21 mila spettatori 21 mila spettatori non sono non sono marginali poi io vorrei per esempio leggo da Stadio News oltre al titolo di apertura che riguarda il Palermo e la sua poca personalità firmato da Roberto Parisi che vi invito a leggere però c'è anche per esempio i tifosi non mollano sold out pure il settore ospiti di Como quindi ancora i tifosi ci credono Bro che oggi ha detto dispiaciuto per il gol annullato però ammette che la mancata vittoria è una bella botta a proposito di notizie c'è anche un messaggio diciamo del re di vivo Elia che dice aspettate mi sto arrivando l'anno prossimo insieme a Di Mariano e vuole e vuole comunque essere diciamo ricordato e considerato nel gruppo e questo mi sembra corretto ancora domande? Allora c'è chi invoca una clack section per fare dimettere Corini o perché spinga la società esonerare Corini c'è addirittura Valentino Berizzi che dice prendete visione del gruppo Facebook stanchi di Eugenio Corini a Palermo avrei una clack section come detto infatti perché ho l'impressione del Palermo e della piazza al City Group e non gliene freghi nulla beh fiato sprecato perché Corini certamente non va via in queste quattro partite finali penso che non vada via neanche più in là il motivo del malcontento io posso capire a volte il malcontento dei tifosi anzi lo giustifico anche perché se io fossi stato allo stadio sabato da tifoso in curva e vedo questa partita qua me ne vado scocciato e magari per la prima ora mi scappa anche qualche parola di troppo poi magari ci ripensi e capisci che non è soltanto un problema di Corini perché non è che questa squadra qua ha questi talenti inespressi in panchina oppure i giocatori sono disposti talmente male per cui Mattei io faccio entra avanti e Brunori fra l'esterno destro quindi ci sono altri problemi che possono anche riguardare la metodologia di allenamento e secondo me possono riguardare anche la comunicazione Salvatore lo chiedo a te che sei una vecchia la parola mi viene ma non la posso dire di questo mestiere di questo mestiere e ti dico anche che anche la comunicazione mi è sembrata piatta sia di Corini che dalla società non potrei neanche dire dalla società perché non parla nessuno sostanzialmente ma appunto la società non mette mai lingua quindi lascia ovviamente che siano Corini e i giocatori a gestire la comunicazione Salvatore sostanzialmente Corini perché se poi i giocatori vengono intervistati solo attraverso il sito e non vengono mandati in conferenza stampa l'unico vero frontman alla fine è solo Corini sì che appunto è uno dei limiti di questo calcio moderno non soltanto a Palermo quello che non c'è un rapporto con con il mondo del lavoro del calcio cioè io vorrei sapere per esempio che cosa fa il Palermo da quattro mesi sui calci d'angolo perché non è possibile pigliare cinque quasi gol su otto calci d'angolo e questo è un problema che esisterà sempre se uno potesse vedere gli allenamenti dice sai si stanno preparando l'errore di Tizio l'errore di Caio gli allenamenti si vanno a rubare a sbirciare appostandosi in collina e questo purtroppo secondo me in un mondo del calcio non è esattamente il massimo comunque torniamo a Salvatore e alla comunicazione un po' piatta dicevamo ma ti ripeto più che piatta è piatta è inesistente per certi versi perché ripeto ancora se è stata affidata solo a Corini e ai giocatori qualcosa manca Corini cos'è? è il tutto del Palermo? è il presidente? è l'amministratore? Corini fa un po' tutto hai ragione tu Salvatore fa un po' le vesci di tutti e lo fa anche bene nel senso che comunque è uno che sa gestire i momenti complicati sa sopportare le critiche lo ha fatto con eleganza risponde più o meno a tono anche se ormai la pappardella è sempre la stessa ma questo ci sta pure dopo 34 partite di campionato di solito però ci sono due persone che si occupano un po' della squadra uno è il direttore che ama lo sportivo generale eccetera eccetera quello che vuoi e l'altro è l'allenatore in questo caso chi parla è solo l'allenatore chi parla sono i giocatori che dicono sempre le stesse cose tu hai visto in bro qualcosa di interessante sì probabilmente qualcosina qualcosina c'è ma sai sono delle interviste piatte devo dire la verità si fa fatica a tirar fuori un'anima anche dal rapporto di comunicazione e questo per me diciamo è un limite perché una società dovrebbe sapere imporre le proprie idee e intervenire soprattutto nei momenti più opportuni Fabrizio ancora messaggi Martina Miles Arcoleo credo che adesso sia rampante che l'organico non sia all'altezza di un obiettivo più importante di una semplice salvezza poi cerco di lo vorrei chiedere a Giuseppe anche per cui imbocerlo secondo te l'organico che non è Giuseppe che non è pronto per un salto di qualità oppure è anche questo che fa parte di un come dire di un processo di crescita cioè per dire stiamo facendo giocare Gomez ogni partita anche un po' oltre diciamo la sua condizione fisica perché l'anno prossimo diventerà il nuovo Tonali per dire spero di non dilungarmi troppo premesso che sono d'accordo con quest'ultimo messaggio che ha letto Fabrizio abbiamo detto in questi mesi abbiamo spesso parlato di di un percorso di crescita di questo Palermo io ti dico che da e anche io diciamo ne ho parlato e ne ero convinto io nelle ultime due tre giornate ho maturato l'idea che questo percorso di crescita è finito ed è finito quando il Palermo è riuscito a toccare l'apice nei primi due mesi dell'anno quando poi ci sono state quelle famose tre vittorie consecutive cioè lì il Palermo esatto ha toccato l'apice cioè più di questo questo organico qui non può dare detto in maniera molto semplice e a scanso di ogni equivoco così cerco di essere subito chiaro qualunque fosse l'allenatore seduto sulla panchina questo organico più di quello che è riuscito a dare non può dare poi magari sarà anche una questione di fortuna farai due vittorie consecutive da qui alla fine che ti porteranno ai playoff per carità ma questo Palermo con questo organico e ci mettiamo in questo contesto anche i tanti infortuni che sicuramente non ti hanno aiutato questo organico non può dare più di quello che è riuscito a dare quest'anno e l'apice è stato toccato a cavallo tra gennaio e febbraio però c'era la speranza del mercato però Guido scusa c'era la speranza del mercato cioè tu hai preso giocatori per potenziare quello che era un Palermo che già viaggiava ai suoi alti livelli quindi lì qualcosa non è andato non c'è dubbio Tutino e Verre per esempio per citare il mercato di gennaio dovevano offrire di più poi vorrei anche dire per onestà diciamo intellettuale è vero che il Palermo a botto è un po' piatto è vero che ha pareggiato tantissimo però immaginatevi se due pareggi magari fossero stati sconfitte perché inseguivi una vittoria che magari non era nelle corde della squadra e ti ritrovavi adesso ancora a quattro partite dal termine a lottare con meno chance per la salvezza in questo contesto di campionato onestamente io faccio fatica a raccapezzarmi perché non l'avevo visto mai un campionato in cui ti puoi permettere di fare una vittoria in 11 partite giocando anche 5-6 partite veramente in maniera non brillante e continuare a essere sostanzialmente lì hai perso contatti con le prime tre hai preso vantaggio sulle ultime tre tutto il resto è una bocca ieri la Ternana ha perso male in casa col Venezia ma se avesse vinto era in zona playoff questo è il mistero però ti sto vedendo a dire proprio questo la differenza di questo campionato sta nel fatto che a lottare per la salvezza ci sono squadre che erano in partenza nate e costruite per lottare per la promozione e ora stanno facendo valere i valori dei singoli organici e qua ci sta una parte di differenza sta sparigliando le carte questo aspetto c'ho la pubblicità non cambiate non andate bene via perché siamo davvero tantissimi adesso dobbiamo parlare anche di un concetto che è più o meno analogo ma ancora più forte perché abbiamo parlato di anima questo Palermo ogni tanto sembra che non abbia anima o non sarebbe neanche molto meglio ha finito la benzina pubblicità e rieccoci rieccoci qualcuno no qualcuno è andato via ma insomma pochi tutto sommato promossi Fabrizio entriamo nel secondo tema della discussione è mancata l'anima a questo Palermo o è finita la benzina più semplicemente e quando dico mancata l'anima non è che dico che questa è una squadra che se ne stia fregando perché credo che nessuno possa contestare diciamo l'impegno la dedizione l'affetto anche dei giocatori nei confronti della città e della sua tifoseria però manca per anima dico anche quella voglia perché ci sta che tu puoi anche perdere col Benevento che cerca i punti salvezza però giochi con un altro tipo di atteggiamento soprattutto quando vinci 1-0 è la partita messa in discesa la puoi amministrare non basta nei 5 minuti finali in cui hai fatto un po' più di gioco pieno tecnico ma io credo che stia venendo a mancare un po' tutto un po' l'anima un po' anche il fiato che comincia a diventare corto e in più ci sono anche delle situazioni singole di alcuni giocatori che non stanno rendendo per come si sarebbe dovuto c'è qua chi nella nostra community invoca la grande iniezione di forza e di fiducia che aveva dato Baldini lo scorso anno anche attraverso il suo staff che era abbastanza caratteristico nel modo di essere di comportarsi è chiaro che ogni persona è diversa l'una dall'altra ognuno fa il suo mestiere nel modo che ritiene più opportuno è chiaro che anche Corini deve prendere però in considerazione determinate situazioni a questo punto visto che chiedeva leggerezza spensieratezza perché non c'era nulla da perdere nel tentare di fare il salto di qualità e non l'ha trovata di eventualmente cambiare qualcosa cioè come ha cambiato l'intero centrocampo tra il primo e il secondo tempo nella partita col Benevento a questo punto siccome neanche lui ha pressioni particolari a questo punto ma perché non rivedere qualcosa a livello di uomini o anche a livello di modulo mi rendo conto che è difficile a quattro partite del campionato andare a scardinare un impianto che di riffa o di raffa ti ha dato qualcosa comunque ti ha consentito di salvarti però a questo punto la stessa leggerezza che si chiede a una squadra che fa fatica ad avere e io a questo punto la chiedo anche a Corini Savutore sono d'accordo un po' con Fabrizio su tutti i temi in questo momento è finita la benzina probabilmente e manca anche l'anima insomma la squadra fa fatica la cosa che mi colpisce di più è che non c'è l'anima che possa supplire alle attuali deficienze francamente parlando di calcio trattandosi di un gioco di squadra a me interessa solitamente più come vogliamo chiamarla la tenacia della tecnica cioè neppure Brunori che pure è un grande riesce a vincere da solo la tecnica in assoluto mi sembra fine a se stessa fa parte insomma della qualità la tenacia invece rientra nell'indole nel cuore nella mente il giocatore non si costruisce solo nel rettangolo di gioco questa è una squadra che non sopporta la pressione l'abbiamo visto insomma i risultati sono evidenti il Palermo ha tecnica e qualità da vendere ma in questo momento non fa gruppo nel vero senso della parola Giuseppe in altri tempi eravamo abituati a un Zamparini che urlava sbraitava cacciava allenatori a due a due cacciava anche giocatori se era il caso ne comprava altri e mi ricordo che il pubblico contestava questo atteggiamento poi ovviamente dopo 15 anni lo ha quasi metabolizzato adesso il problema è il contrario cioè questa è una società che programma con comodo con metodo attenzione quindi non in maniera scorretta che sta programmando un futuro che dovrebbe essere lungo e indipendente anche dalle volontà di un singolo imprenditore padre padrone e però tu pensi che se ci fosse stato un altro allenatore o un altro tipo di conduzione societaria un po' più all'arba bianca questa squadra si sarebbe scossa? l'ho detto poco fa Guido cioè hai detto no sostanzialmente no perché ho detto qualunque fosse una guida tecnica questa è la squadra questa è la squadra quindi poi qualcuno poi dovrà fare un bilancio abbiamo fatto 12 acquisti 6 buoni 6 li abbiamo sbagliati oppure ma i bilanci sono già in corso a differenza di quello che pensa la maggior parte delle persone il City Group sta guardando con molta attenzione in questo momento quello che sta succedendo in quest'ultimo scorcio di stagione e sta facendo le proprie valutazioni e sta capendo dove intervenire e come intervenire cosa serve cosa non serve sono tutti sotto esame anche Corini deve dimostrare qualcosa in più sicuramente e poi verrà tirata una linea però è chiaro che loro hanno iniziato un progetto con Corini in panchina e penso lo vogliono continuare a portare avanti poi non si sa mai nel calcio è tutto aleatorio però io faccio l'esempio del Frosinone il Frosinone l'anno scorso ha mancato la qualificazione ai playoff con Grosso ma non è che ha preso Grosso e l'ha mandato a casa ha riconfermato Grosso gli ha sistemato la squadra e oggi Grosso è primo in classifica che è quello che dovrebbe succedere a Palermo perché Corini era stato sceso dico non c'è una scienza esatta no non c'è una scienza esatta non c'è una scienza esatta il tanto tempo che è servito per diradare i dubbi sull'arrivo di Corini era proprio perché volevano guardare a uno che volevano guardare in prospettiva come poteva essere Guardiola con City poi non è detto che magari a giugno si fa un bilancio di queste ultime quattro partite e anche Corini venga messo in discussione come giusto che sia allora cominciamo con i commenti continuiamo con i commenti domande a Raffica perché ci sono tantissimi davvero ti sto vedendo un po' diciamo che ho perso anche un po' il filo quindi lo devo riannotare allora partiamo da Manlio Palermo che dice cambiare modulo e gente per come e provarla a vincere per dare un senso a questo finale campionato io non l'avevo letto però un po' quello che sostenevo io poc'anzi andiamo avanti con Luciano Buetto stanno preparando il prossimo campionato vedete cosa dice cosa dica Sala voglio rimanere bisogna vedere chi prenderanno cioè almeno 5 giocatori di livello per andare in serie A ma almeno 5 secondo me io dico che anche 5 potrebbero essere pochi io parlo di ovviamente di una rosa di 18 non di 11 ma io penso che 8 su 18 servono questa è la mia personale valutazione che non è supportata poi va detto da tutto quello che ormai comanda nel calcio cioè tutti i dati computerizzati su quanto corri quanti passi fai quanta velocità sprigioni se giochi di più a destra o più a sinistra che sono secondo me come diceva un po' salvatore dei concetti che magari hanno anzi no magari hanno la loro validità scientifica ma che non bastano nel calcio a giustificare vittorie e sconfitte la prova provata è quella proprio dello scorso anno con Baldini con una squadra che più o meno dicevamo le stesse cose a categorie differenti e che poi invece si è trasformata certo in un campionato di livello inferiore non c'è dubbio allora c'è chi chiaramente continua a battere il ferro finché è caldo contro Corini come Davide Corrau ti sintetizzo perché sei troppo lungo Corini è incapace perché la piazza è importante Metà Rosa è stata scelta da lui quindi il 50% delle colpe va a lui il 30% dei giocatori scarsi il 20% della società che ha deluso 21.000 spettatori a ogni partita io per la verità non credo che Corini abbia scelto tutti questi giocatori questa è la mia personale opinione dico non vorrei dire cose che non so Salvatore tu hai l'impressione che Corini abbia scelto o abbia accettato scelto o abbia accettato che cosa alcuni giocatori di questo mercato del Palermo mi pare che non è che li ha scelti Corini Corini no no io no scusami io penso che non si può fare una distinzione appunto ti ho chiesto proprio di proposito di ripetermi la domanda proprio per per essere più sicuro del del contenuto cioè tu se non hai se Corini è il responsabile numero uno di tutto praticamente è l'uomo che è più in vista del 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 Palermo in tutti i sensi su questo non abbiamo nessuno dubbio come fai a dire che poi Corini non non è stato quello che ha consigliato i giocatori e che ha avuto un ruolo assolutamente determinante nella scelta dei giocatori cioè sarebbe una pazzia intendo dire li piglia Rinaudo oppure Bigon sulla scorta di indicazioni che certamente devono venire da Corini perché è utile pigli un terzino sinistro se serve un alla destra è utile pigli un difensore se serve un attaccante però i profili poi sono vagliati ovviamente dalla società dal city group quindi diciamo è sempre complicato trovare il confine fra le scelte di uno e le scelte dell'altro io penso che Corini abbia una grandissima personalità e che quindi sia influente in tutte le situazioni sia di campo sia di spogliatoio sia di rapporti sia anche sul piano dell'informazione e che quindi su quello tecnico abbia avuto grandissima grandissima influenza ora ci sono ancora messaggi con Fabrizio io volevo ricordarvi che se voi andate sulla home page di Blog Sicilia troverete anche la finestrella poi con il podcast della trasmissione un prodotto audio comodissimo da sentire anche mentre fate altre cose perché mentre Vitale sa leggere e scrivere contemporaneamente voi con il podcast potete anche per esempio ascoltare e farvi il caffè ora che faccio leggo o scrivo? Leggi leggo leggi allora Angelo Ferlazzo servono due giocatori per reparto Manu Remu qualcuno mi spiega come si fa a togliere Verre il migliore della serie B e del Palermo ogni partita ma l'abbiamo già detto non è in condizioni ottimali e non essendo in condizioni ottimali in questo momento non garantisce la copertura che ci vorrebbe per una squadra che gioca con due esterni offensivi Verre e due punte questa è la spiegazione ma ora parleremo anche del centrocampo ancora qualche due tre minuti e poi parleremo di un centrocampo flop evidentemente perché è stato cambiato tutto a partita in corso e non è che la prima versione sia stata molto meglio della seconda o viceversa Marco Bianco ricordatevi che Baldini che verrà sempre ricordato per il miracolo compiuto e pre-off avrebbe voluto affrontare la serie B con dei giocatori che a gennaio sono stati ceduti in Lega Pro questo probabilmente è risposta a chi sosteneva che mancava diciamo la verve e non ci sarà mai una contoprova alcuni ad agosto alcuni altri svenduti diciamo regalati a gennaio andiamo con Andrea Conforti iniziare il prossimo anno con Corini sarebbe una mazzata per l'entusiasmo dei tifosi che sperano in una stagione di riscatto dopo quello anonimo di quest'anno io poi c'ho un dubbio Fabrizio tu che sei più attento di me ai commenti perché li valuti però il mio dubbio è che ogni tanto però ci lasciamo distrarre da qualche commento rumoroso ma la maggioranza fa un altro tipo di valutazione magari maggioranza che non scrive scrivete messaggi anche voi che siete a favore di Corini o a favore del Palermo perché quando si perde il numero dei commenti è sempre il triplo e sono tutti gli scontenti quelli che poi ma sì ma che c'è un partito che tra l'altro secondo me è abilmente comandato contro Corini non c'è dubbio perché si criticava abilmente comandato diciamo ma per favore se si criticava pure quando stava facendo nove risultati utili consecutivi qualcosa vorrà pure dire poi che Corini abbia le sue responsabilità non c'è dubbio no ma non c'è dubbio neanche che quando il Palermo perde c'è il triplo dei commenti giustificati anche dalla rabbia della sconfitta mentre mi aspetterei anche il triplo dei commenti se vinci 3 a 0 contro o 5 a 2 contro il Modena per esempio cosa che non avviene perché è più facile lamentarsi che non scrivere eroggi e questo lo dico perché se poi io vedo 21.000 persone allo stadio il settore di Como già ha prenotato tutto il settore ospiti per la prossima partita mi viene da pensare che ci sia anche una maggioranza silenziosa che magari non è che abbia Corini ma sai perché perché poi io vedo che c'è questo continuo battere sul fatto che Corini avrebbe detto che il problema sono i tifosi non ha detto questo cioè se vogliamo distorcere la realtà e fare disinformazione la possiamo fare Corini ha detto che una piazza come Palermo per i tifosi che ha Palermo merita un certo tipo di atteggiamento in campo punto certamente Corini che è stato o sannato mi sta mettendo alla prova i giocatori non i tifosi assolutamente no però sta passando un altro messaggio perché bisogna dire che Corini non va bene poi che Corini non vada bene ci sta anche perché è chiaro che se una squadra gioca la partita che ha giocato contro il Benevento è chiaro che le colpe sono anche di Corini ma è questa critica preconcettuale che non mi sta bene scusa scusa Fabrizio ma pilotata da chi? ma non lo so ma non è possibile se tu dici pilotata ma se c'è ma se c'è un andamento negativo anche quando tu hai fatto nove risultati utili consecutivi e per forza ci deve essere qualcuno che ce l'ha con Corini non so chi non so chi ma è normale ma i pareri sono pareri è piuttosto l'atteggiamento globale che è diverso cioè poco fa quando Guido parlava di tifosi io mi ricordo sempre sarò patetico in questo ma perché al Liverpool a tre minuti dalla fine cominciano a cantare anche se la squadra perde 6 a 1 me lo volete spiegare questo qui per una diversa cultura direi è appunto è appunto quindi non è il fatto di essere pilotato quindi non è il fatto di essere pilotato è il fatto di avere una cultura completamente diversa tutto qui sì quello che mi sta prendendo a me è che non ci siano tanti commenti positivi quando le cose vanno bene quasi fosse scontato perché a volte sai anche sentirsi fare i complimenti parlo per la società o per Corini o per i giocatori può essere utile invece c'è molta molta predisposizione ai commenti quando le cose vanno male ancora due commenti e poi cambiamo titolo Simone Giunta propone un tema interessante se il City Group dichiarasse all'inizio della prossima stagione che l'obiettivo sarà un ulteriore consolidamento salvezza quali sarebbero le vostre considerazioni che farebbero la metà degli abbonamenti probabilmente e poi la metà dei paganti e che bloccherebbero l'entusiasmo questa è la mia personale opinione e loro penso che non se la possano permettere perché se oggi se quest'anno arrivi ottavo o nono l'anno prossimo quantomeno devi essere certo dei playoff e poi dire magari andiamo in serie A ma certamente non può andare a ribasso ma non si è dubbio e non credo neanche che sia comunque un'idea del City Group se il City Group fa tutto questo casino per venire a Palermo loro un'idea ce l'hanno poi la puoi indovinare ma un'idea ce l'hanno che passa anche dal rafforzamento del settore atletico sanitario impiantistico dallo stadio a proposito ragazzi li vogliamo mettere a posto questi gabinetti cioè ci vuole un appalto europeo ci vuole cosa ci vuole per mettere a posto non vi dico i gabinetti uno può portare la propria fidanzata in un posto in cui non si può pensare di entrare nei gabinetti perché c'è da vomitare questo io non so se tocca a Palermo o al Comune o alla Regione o alla Federazione non so a chi tocca ma sistemiamo questi gabinetti perché sennò veramente fa passare la battuta è tutto un cesso terzo titolo e poi continuiamo con i commenti il centrocampo ha fatto flop ora qualcuno mi dirà pure perché invece la difesa come è andata anche su questo potremmo discutere Salvatore tu ridi ma io non rido perché quando guardiamo la partita con tutta la redazione di Stadio News ogni calcio d'angolo che subiamo contro c'è sempre uno che dice calcio di rigore perché le possibilità di subire gol sono più o meno le stesse e anche col Benevento io non posso pensare che noi non riusciamo a trovare delle contromisure sugli schemi e il centrocampo è stato clamorosamente bocciato non da Bene ma da Corini che ha tolto Verre perché non poteva sopportare diciamo la squadra un giocatore così offensivo Gomez secondo me ha una involuzione da qualche partita potrebbe anche riposare ma non riposa ha giocato Bro che a parte il gol al 95esimo non è che abbia dato tutta questa impronta alla partita Damiani ha fatto quello che ha potuto in circa mezz'ora e Segre e Saric si alternano diciamo su prestazioni modeste Giuseppe mi pare che questa del centrocampo sia una bocciatura anche diciamo preoccupante in prospettiva esatto il termine giusto è preoccupante perché sinceramente quando poi a fine partita sento Corini spiegare della sostituzione di Verre a metà partita perché la squadra aveva bisogno di ritrovare l'equilibrio non ti nascondo che è una è una spiegazione sconforte perché se tu per ritrovare l'equilibrio devi togliere sulla carta il giocatore più forte che ha in rosa con più esperienza e con più background rispetto a tutti gli altri vuol dire che c'è un problema che c'è un problema grosso in questo momento di una squadra scarica dal punto di vista mentale e fisico in questo momento in mezzo al campo Corini fa fatica a a pescare dal mazzo una carta vincente perché poi io sento dire però potrebbe fare giocare Damiani dal primo minuto di quei di là intanto i fatti dimostrano che non cambia moltissimo Giuseppe esatto esatto esattamente perché comunque chi è entrato non è riuscito a fare di più del di un compitino appena appena sufficiente Allora io chiedo a Salvatore sempre dall'alto della sua veneranda età ed esperienza soprattutto fai finta che il campionato è finito domenica scorsa non siamo nei playoff e devi costruire la squadra del prossimo anno da questo centrocampo quanti ne prendi? Dovremmo cominciare a dire chi è che ha deluso e chi è che ha fatto bene bene insomma cioè non c'è dubbio che ci sono una serie di delusioni perché Gomez e Damiani possono rappresentare il futuro no? Verre se lo hai preso dovresti avere fiducia in lui e costruire una squadra che lo supporti Saris Segre Stulac Bro questi sono tutti sia per infortuni sia per rendimento sono tutti sotto osservazione perché non c'è dubbio che non abbiano portato quella consistenza che probabilmente Corini si aspettava gli infortuni sono stati sicuramente determinanti ma tanti altri fattori sono stati determinanti oltre a quelli tecnici sui quali tu giustamente insisti per esempio la mancanza di una casa fra virgolette dove allenarsi non è da mettere in secondo piano no? la preparazione non c'è dubbio non c'è dubbio la preparazione non si può giudicare perché mancano i parametri almeno a noi no? Ma alcuni elementi che alcuni elementi siano stati sopravvalutati non ci piove dai il mercato di gennaio non è assolutamente servito a completare quelle opzioni per modificare l'assetto tattico e la concretezza della squadra questa per la salvezza scusa siudo subito per la salvezza è sicuramente una buona una buona una buona squadra per il futuro bisogna provvedere a meno che il Palermo non faccia una cosa semplicissima e non ci regali una Pasqua di resurrezione mettendoci tutti a tacere vediamo vediamo se ci mette a tacere intanto due minuti per smaltire più messaggi possibili sì perché sono tantissimi oggi più che mai e noi di questo non possiamo che essere contenti e ringraziare la nostra community sempre più numerosa Davide Accorraufi che ci saranno in rosa giocatori con contratto a riscatto non si va da nessuna parte ci vuole una rosa di qualità con giocatori di 80 punti con contratti triennali Gianfranco Carnevali la squadra come avete ben detto ha scarsa individualità salvo Brunori e Verri quindi i punti in classifica sono l'esatto valore della rosa punto più più un punto meno Walter Guccione sia chiaro che la prossima stagione la pressione non potrà che aumentare cosa vuol fare il City il Palermo è un affare oppure no ma certo lasciamo stare queste provocazioni chiaro che se loro prendono il Palermo lo prendono per andare avanti e non mi pare neanche che abbiano gestito il Palermo come hanno gestito il Troyes o in Girona c'è più attenzione e questo si è visto Ignazio Caronia a mio parere il Palermo andrà ai playoff in quanto non è nel programma la prossima stagione si punta alla Serie A poi c'è chi come Angelo Barone dice manca un leader che grida e questo in parte è vero non che gridi ma insomma che abbia le cosiddette palle per capire i momenti della partita poi c'è chi come Calogero Marchese dice io sono a vedere Corini quando lo inquadrano in tv mi viene il nervoso e questo si rifà a quella scuola di pensiero che vorrebbero un allenatore molto più movimentato e molto più a sbracciarsi in pantina ma quanti novisti si sono orati quest'anno di giocatori di allenatori che si sbracciano ce ne sono diversi e poi comunque non mi pare che i grandi allenatori sono solo quelli che si sbracciano Ancelotti insomma non mi pare che sia uno che si dia così tanto ma neanche Guardiola moltissimo esatto poi Pietro Massimiliano Sommavilla ci siamo salvati basta però il prossimo anno si deve cambiare guida tecnica insomma Corini come sempre è l'imputato numero uno io sostengo che non ci sono mai colpe da una sola parte e che Corini non è che fa l'allenatore da ieri può avere anzi ha certamente alcune responsabilità ma ce l'ha anche la squadra ce l'ha la società che evidentemente per esempio come dice Salvatore non ha adeguatamente rinforzato il Palermo o ha sbagliato alcune mosse quando bastava poco per poter raggiungere quanto meno i playoff in maniera tranquilla io devo chiudere perché siamo già fuori tempo massimo da un po' ringrazio Giuseppe Leone Salvatore Geraci e Fabrizio Vitale come sempre ringrazio voi che ci seguite sempre tantissimi ricordatevi sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News potete guardarvi l'intera corrispondenza oggi copiosa forse anche più di altre volte nonostante la giornata semifestiva per il ponte seguite Blog Sicilia per il podcast anche della trasmissione seguite Stadio News per tutti gli aggiornamenti in tempo reale grazie a tutti e buon 25 aprile ciao grazie a tutti